Sappiate dunque che al tempo della grande ribellione questo maniero era nelle mani di Ugo Baskerville, un uomo violento, empio e senza timore di Dio. Il caso volle che questo Ugo si accese d'amore per la figlia di un signorotto locale. Un giorno, con l'aiuto di alcuni valori di suoi compagni, Ugo rapì la ragazza e la rinchiuse in una delle stanze del suo castello. La povera fanciulla, con grande coraggio, si aggrappò all'edera che ricopriva la parete del castello e, calandosi lungo le grondaglie, fuggì attraverso la brughiera. Ugo, scoperta la fuga come impossessato dal demonio, urlò che avrebbe reso anima e corpo al diavolo quella notte stessa, pur di riuscire a riprendersi quella sgualdrinella, e si lanciò con i suoi compagni all'inseguimento, ma ben presto scomparlò nella brughiera. I compagni si affrettarono a cercarlo e, quando lo ebbero trovato, lo scenario che si apria ai loro occhi fece gelare loro il sangue nelle vene. In mezzo alla radura, sotto lo sguardo di una luna pienissima, giaceva il corpo della sventurata fanciulla, morta di paura e di fatica. A fianco il cadavere di Ugo, erritto su di lui, pronta ad azzannarlo, si stagliava una sagoma orrenda, un'immane bestia nera, di forma simile a quella di un mastino, ma molto più grossa di qualunque si sia mai posato. Proprio sotto i loro occhi, quel mostro piantò i denti nella gola di Ugo Baskerville, e quando volse su di loro le pupille infuocate e le macelle grondanti di sangue, quei testimoni, urlando come ossessi, fuggirono terrorizzati attraverso la brughiera.